Tutti superare aaaaah Cazzo Hola a todos yo sono chronox ben ritrovati nel mio canale Oggi giocheremo ad un indie horror dal nome Night Blights Non ci ho mai giocato quindi è la mia prima esperienza su questo gioco Preparatevi a divertirvi perché io non mi divertirò per niente E si dico così perché già so come andrà a finire Sarà una sorta di spavento alla Boogeyman E' stata orrenda quella puntata Penso che questo gioco sia molto simile a Boogeyman comunque Quindi andiamo immediatamente nel menu Eccoci nel menu ragazzi ci troviamo di fronte a questo libro Non so come definirlo diario Con questo sfondo alquanto bello devo dire E lo dobbiamo sfogliare Ah qua ci dice i comandi Vabbè bene o male sono i soliti Ah si può addirittura saltare Correre Ah sarà un gioco molto figo allora Questa è una filastrocca credo E' meglio che non la leggiamo se no Leviamo subito da mezzo E quindi è meglio andare avanti Eh probabilmente sarà proprio questo bastardo Che vedete di nero A romperci il culo Ah ce n'è più di uno E' sempre lui Spero che ne sia uno solo Com'è bello Guardatelo Ok Siamo nel gioco Che accidenti si deve fare Non ne ho proprio idea Si può chiudere la porta Cosa si può fare Eh? Che è successo? Non mi piace questa cosa ragazzi Ho una zucca Sono molto pericoloso Non si può lanciare? Ah si si può lanciare Riprendiamo la nostra zucca Ma Cosa si deve fare precisamente? Ho questo brutto vizio Di giocare ai giochi Senza sapere un cazzo di niente Giusto perché Poi nel gioco E' più divertente Dal vostro lato Vedermi All'opera Ma Questi ursi Non è che li devo mettere da qualche Ursi Volevo dire dinosauri Non è che li devo mettere da qualche parte Non lo so Eh? Allora Io me ne andrei Decisamente si Perché ho sentito qualcosa di alquanto brutto Quella è la maschera di Crash Che figata Allora Oddio Ciuditi Oh cazzo Ciuditi Non si chiude Cazzarola Cazzarola Merda Allora In pratica abbiamo Degli obiettivi Da quanto ho potuto capire Che dobbiamo Tutti Superare Cazzo Che cazzo Che cazzo però Sono morto dopo Due minuti in croce di gioco Mi sono cagato addosso I mortacci di quell'affare Ah devo anche inserire il mio nome Bene Cronox No Non voglio supportare un bel cazzo di niente Madonna Santa Allora Dobbiamo capire meglio Come si deve affrontare questo gioco Devo leggere Su quel foglio Cosa devo fare In modo preciso Non in modo Approssimato Ok Allora Qua dice Feed monster under beds Quindi qualcosa riguardo A letto Credo Ma Sto cliccando Ma non succede un cazzo Poi Spin body mobile Poi dice Press red button To close garage door Flush toilet Keep fire lit Shut Wardroobs Stay awake till Ho capito che Qua bisogna chiudere Sicuramente Facciamoci un giro generale Forse devo semplicemente chiudere Tutte le Questi mobili Che si aprono La finestra Non la devo chiudere Credo di no Poi vedo Questi giocattoli luminosi Che Secondo me Hanno qualche utilità Poi diceva Qualcosa riguardo Al bagno Ma cos'era Un attimo solo Mi fa cliccare Qua Ah Era quel fatto Del flushed Che non so Cosa significhi Dice che Già è stato fatto Ah Credo di aver capito Cosa si deve fare Ragazzi In pratica Quando se Oddio Chiudiamo qua Quindi Ne è più di uno Sì Ne è più di uno Non è uno solo Che ci vuole stuprare Come se non ci fossero domani Ce ne sono più di uno E noi dobbiamo chiudere Tutti i mobili Per non farli entrare Vabbè A parte il gabinetto Che Che cazzo Oh no 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 Non andiamo bene Sono fottuto Ragazzi Me lo sento Sono Fottuto Ora esco E mi salto addosso Anzi Oddio È lì Come faccio Ora Cavolo Come devo fare Eh Sono stato un po' Imbecilla Ad entrare Però Non sapevo Cosa fare Devo capire Il fatto del letto Facciamo di nuovo Survival mode Allora Il letto dice Dove sta? Feed monster Under beds Feed Che accidenti Significa Feed Qua è già chiuso Qua già si stava aprendo Qua è chiuso Cazzo Ma cosa devo fare Precisamente E' già là sotto Forse Ne devo semplicemente Andare a fanculo Non lo so Voglio andare Un attimo Al garage Devo dire Quel fatto Del pulsante russo Che abbiamo letto Sul foglio Eccolo lì Ah In pratica Bisogna Cliccarci Quando è aperta Beh Un po' Era prevedibile Ora Se vado sopra Sicuramente Mi stupra Quello Quindi Come devo fare Sta ancora lì Infatti Qua chiudiamo E ciudiamo Anche qua Cosa è lì Ah ok In pratica Non mi posso Proprio più avvicinare Alla Stanza da letto Perché è lì Che cavolo è successo Sono morto Ma Non ha senso Proviamoci ancora Una volta Poi magari Ci fermiamo E Cerchiamo di capire Bene Per il prossimo episodio Se volete che ci sia Come affrontare bene La situazione Devo capire Questa cosa Del letto Perché non mi è chiara Ok Qua È chiuso Anche qua È chiuso Secondo me Questi qua Hanno a che fare Mi era uscito Qual Allora A blight Will only Take a toy If they are hungry Ah Oh cazzo Mio dio Prendiamo un giocattolo Prendiamo un giocattolo Penso che sia questo Il modo per Fargli andare via Un giocattolo Tieni E vuoi il giocattolo È qui Tieni Tieni Come devo fare No Credo proprio Che ho sbagliato Come accidenti Devo fare Mio dio Nel frattempo Qua sta succedendo Di tutto C'è il mostro Lì Anche nel bagno Che cavolo Devo fare Ora Se entro Mi uccide Credo Spero di no Ecco il giocattolo Tieni No Ho perso Vabbè ragazzi Devo un attimo Capire Come funziona Il gioco Ma questo Lo faremo Cioè Nel senso Nel prossimo episodio Saprò cosa fare Per bene Se volete Appunto Il prossimo episodio Quindi ditemi Nei commenti Se volete Un altro episodio Su questo gioco In cui ci impegniamo Meglio Perché sapremo Bene come fare A svolgere Quegli obiettivi Quindi questo era Un episodio Per immergerci A primo impatto Nel gioco E vedere Se ci piacevano A mio parere Un gioco Non male E divertente Sì Forse perché Sono proprio entrato Nella parte Centrale Del gioco Quindi lo trovo Divertente Ma sicuramente Mi pentirò Di ciò Che sto dicendo Perché mi cagherò Addosso In modi Esorbitanti Quindi ragazzi Appunto Fatemi sapere Nei commenti Se volete Il prossimo episodio Di questo gioco Per giocare Al top Mettete mi piace Se vi è piaciuto Il video Iscrivetevi Condividete Se vi va Quindi Ci vediamo Al prossimo video Ciao